Benvenuti ragazzi su questo mio nuovo canale di FIFA, dove vi presenterò vari gameplay, soprattutto di Ultimate Team. Questa che vedete è la mia prima squadra, con naturalmente Bentekei Obama Young lì davanti, e in poche parole oggi voglio farvi vedere le squadre che uso e un po' come gioco. Mentre già dal prossimo video inizierò la mia prima serie su Ultimate Team, ma adesso non ve la voglio svelare, voglio andare a farvi vedere la mia altra squadra, che è SCAS, composta da Ligue 1 e la Liga Spagnola. Più in porta ho Diego López, ma poi lo sostituirò con Casillas. In difesa uso Thiago Silva, Sergio Ramos, Dani Alves e Marcelo. A centrocampo ho Matuidi, Lukas e l'avezzo le partial, e il menestrio quartista che ve lo consiglio subito perché è fortissimo. La coppia d'attacco invece è Cavani-Palcao, è tutto pagato circa 300.000 credibile. E adesso entriamo nelle due partite che vi farò vedere. Qui arriviamo alla prima partita, contro un tifoso del Paris Saint Germain che ha stemma, divisa e anche lo stadio dei parigini. Infatti come potrete vedere utilizza una Ligue 1 simile alla mia per molti giocatori, con Joao Motini a tre quartista, sempre 4-1-2-1-2, modulo molto buggato, sempre in tutti i FIFA. E adesso vediamo alcuni highlights. Menez. Allora, la prima occasione, subito nei primi minuti, è un Dani Alves, creatura palla, Menez, poi Cavani. Cavani vede il movimento del compagno e lo serve perfettamente, Menez pallonetto e niente da fare possibile. Cerca subito l'esultanza del collo Menez per spaccarsi un po' a metodo. E adesso rivediamo l'azione al rallentatore con questo tocco morbidissimo di Menez. Perfetto. L'avversario prova subito a reagire, anche lui con Menez, che tenta un tiro da 40 metri, su problema per Casillas. Al sedicesimo poi un'altra occasione per i nostri ragazzi, un rimpallo che cobrisce Marcelo. Sulla fascia per Lucas vede l'arrivo di Cavani, lo serve perfettamente, Cavani con un tornato sul secondo palo, non fallisce ed è 2-0 con un gol di Menez e Cavani già nei primi 18 minuti. Adesso rivediamo meglio il gol, con un cross delizioso per la testa di Cavani, che supera nettamente in altezza il diretto avversario. Al che l'avversario decide di mettere in pausa e di quittare. Tra le due partite che vedrete ho giocato anche un'altra partita con l'altra mia squadra, ma purtroppo era piena di lag e quindi non ve l'ho voluta mettere. Come potete vedere ho i miei problemi in divisione 1, con questa che era la prima vittoria dopo 6 partite, ma banda alle ciance, entriamo nella seconda partita. Qui sono contro Turco 99, non so se è veramente un Turco, che ci presenta la sua Bundesliga, un 4-2-3-1 con i due giocatori di fascia, Müller e Vladikovsky. Bundesliga vista e rivista, un po' i miei anni avanti. Vabbè, l'avrete vista parecchie volte. La prima occasione è al tredicesimo, sulla fascia sinistra con Tavezzi, Marcelo e Cavani, che già fanno bene tra di loro. Cavani vede l'inserimento di Menez pinta a tiro ormai, solo il giocatore pallico per il giocatore pallico. Le occasioni non mancano nel primo tempo, ma è solo sul finire che trovo il gol. Infatti, Dani Alves e Lucas giocano sulla fascia, cercano il cross, vedono Falcao nel mezzo, tanto al topo di testa, ma solo calcio d'angolo. Anche se i calci d'angolo in FIFA 14 sono veramente pericolosi, infatti, gol. Falcao, facile facile al 45esimo, insomma un plus. Anche lui con l'esultanza del pollo, per spaccarsi a merda tutti insieme. Ed è proprio sul 1-0 che si chiude il primo tempo. Partita per ora dominata, ma non sfruttano tutte le occasioni. Il secondo tempo, invece, risulterà più agile, con subito la squadra che si rende pericolosa sulla fascia di Dani Alves, che se la fa tutta. Cerca qualcuno in mezzo, ma il difensore lo spinge bene. Anche se il disimpegno non è così facile, infatti, sulla metà campo, Tiago Silva fa, recupera palla, trova Falcao, punto l'avversario lo scarta, un'altra finta, rientra sul sinistro l'incrocio, ed è Falcao 2, l'Uvesliga 0, con un'azione incredibile di Falcao, che si scarta tutta la difesa e con il piede debole conclude nell'angolino basso, alla sinistra del colpiero. Poco dopo l'avversario commette un errore sul rinvio, Cavani vede Menez nel mezzo, e Menez qui non sbaglia, la piazza ed è 3 a 0, con Menez che fa una delle mie esultanze preferite, c'è la rivista Ronaldo calm down, tanto per far arrabbiare anche l'avversario che ha sotto la seconda. Qui lo rivediamo, niente da fare per Biden stella. E al 52esimo la partita si può già dire chiusa, infatti, tengo fino a fine tempo, quando l'avversario, l'85esimo, decide che ne ha avuto abbastanza e mette in pausa, e decide di ritirarsi. E questo era il mio primo video, per il quale ringrazio il mio amico Andrea Nicastro per la gentile concessione dell'Elgato Game Capture. Mi rispetto al prossimo video, che sarà la prima puntata della prima serie di questo canale, che spero di caricare al più presto, e quindi alla prossima!